Per conflitto nell'ambito della negoziazione si intende il disaccordo temporaneo che si percepisce o si manifesta in occasione dello scambio d'affare relativamente a ciascuno degli elementi negoziali. La maggior parte delle strategie negoziali si basa sulla gestione del conflitto, e cioè sul comportamento che si adotta nei confronti delle manifestazioni di disaccordo. Il conflitto è parte integrante della negoziazione e non deve esserne assolutamente considerato come un elemento patologico. La presenza di disaccordo reale o simulata durante la negoziazione è del tutto naturale. Bisogna saperla accettare, comprendere e gestire. Il conflitto si esprime di solito con obiezioni, con la disapprovazione, con un rifiuto, e talora anche con attacchi personali che tentano di sminuire il valore della controparte. Un buon negoziatore sa comportarsi in maniera razionale nel conflitto, mantenendo sempre la lucidità senza cedere alla emotività. L'atteggiamento di apertura e di disponibilità e l'adozione della filosofia del win-win per il buon negoziatore sono una nota di fondo lungo tutta la negoziazione, indipendentemente dall'accentuarsi del conflitto. Grazie a tutti.